Ciao a tutti, in questo video andrò a spiegare la soluzione del laboratorio 8, che è quello che abbiamo fatto due settimane fa, mi pare. Niente, visto che ci sono state tante domande e avete chiesto parecchie cose, quindi andrò a spiegare come si potevano risolvere gli esercizi un po' passo a passo, e facendo vedere come si potevano risolvere. Un attimo, condivido lo schermo. Allora, voi conoscete già questo laboratorio. Il primo esercizio era quello che ci chiedeva di fondire due liste, alternando un elemento della prima e un elemento della seconda. Ci chiedeva di scrivere, o di fare per questo, per risolverlo, questa funzione merge, che prendeva come parametro due liste, la lista A e la lista B, e ci diceva questo esercizio che se una lista era più corta dell'altra, allora gli elementi vengono alternati fin quando si possa, fin quando era possibile alternare gli elementi, e poi gli elementi rimasti nella lista più lunga vengono aggiunti ordinatamente in fondo, quindi semplicemente si aggiungono gli elementi della lista più lunga che restano. Le liste di partenza non devono essere modificate, e ci danno un esempio per farci capire cosa fa quella funzione lì. Allora, l'esempio è questo qui, ci danno questa lista piccola, questa lista più corta, diciamolo così, che ha quattro elementi, e ci danno questa lista più lunga, che ne ha cinque. E poi, alla fine, la nostra funzione, la nostra funzione merge, dovrebbe restituire questa lista che contiene i valori, sia la prima che la seconda, e i valori vengono aggiunti alternatamente, che vuol dire che, guardate, nella soluzione viene aggiunto prima il 1, poi il 9, 4, 7, 9, 4, 16, 9, e finalmente l'11, perché non c'erano più elementi da aggiungere appartenenti alla lista più corta. In questo esercizio, diciamo che l'unica cosa a cui bisognava fare qualche attenzione era su questa condizione qui. Gli elementi vengono alternati fin quando è possibile, poi gli elementi rimasti nella lista più lunga vengono aggiunti ordinatamente in fondo, quindi vuol dire che io cerco di aggiungere alternatamente gli elementi della prima e la seconda lista fin quando si possa. Se poi arrivo, ad esempio, a questa posizione in cui non ci sono più elementi della lista più corta da aggiungere, quindi continuo ad aggiungere soltanto gli elementi della lista più lunga. Diciamo, è l'unica cosa a cui magari bisogna fare qualche attenzione. Allora, cosa bisogna fare per prima? Quale sarebbe il primo passo? La prima... O quello che dovremmo fare per prima sarà quello di identificare tra queste due liste che arrivano come parametro qual è la lista più corta e la lista più lunga. Perché ci interessa capire qual è la lista più corta e la lista più lunga? Perché? Perché appunto io devo fermarmi a un certo punto. Se io ho raggiunto l'ultima posizione della lista più corta, il mio algoritmo, diciamolo così, cambia, nel senso che mi interessa soltanto aggiungere gli elementi della lista più lunga. Non provo più ad aggiungere elementi di entrambe liste, ma continuo soltanto, mi preoccupo soltanto di aggiungere elementi della lista più lunga. Quindi un primo passo potrebbe essere quello di capire qual è la lista più corta e qual è la lista più lunga. Poi, guardate che per andare a prendere il primo elemento della lista corta, io faccio lista... Andiamo, prendi della lista corta l'elemento che si trova nella posizione, nell'indice 0, e per andare a prendere il primo elemento della lista più lunga faccio la stessa cosa, solo che non lo faccio sulla lista più corta, ma vado a prendere quell'elemento nella posizione 0, nella lista lunga. E, guardate, la stessa cosa nella seconda posizione, nella lista corta, la posizione 1, e nella lista lunga, la posizione 1. Perché vi faccio vedere questo? Per farvi capire che in questo caso ci serve soltanto un indice. non c'è bisogno di fare due cicli anidati, ma soltanto con un indice riusciamo a risolvere il problema, visto che... Che niente, a noi ci interessa solo tenere traccia di una posizione alla volta, perché con un solo indice riusciamo a prendere gli elementi di entrambe le liste. È lo stesso indice per andare a prendere gli elementi delle liste. Quindi, questo vuol dire che il nostro for, il nostro ciclo, sarà una cosa come questa. Quindi io dico for i in, in questo rango, che sarà da 0, ha la lunghezza della lista più lunga, perché io devo fare queste, devo iterare in questo for, devo entrare in questo ciclo, tante volte, come elementi ci siano nella lista più lunga. Capito? Perché io non mi fermo quando ho aggiunto tutti gli elementi della lista corta, ma mi fermo quando sono aggiunti tutti gli elementi della lista corta e della lista lunga. Quindi, devo fare, devo iterare tante volte quante posizioni ci siano nella lista più lunga. È per questo che il range si fa a seconda dal numero di elementi della lista lunga. Ogni volta che io faccio una nuova iterazione, devo fare questa domanda. Questa domanda mi permette, mi consente di capire se devo ancora aggiungere elementi della lista più corta o se devo soltanto aggiungere gli elementi della lista più lunga. quindi se la mia posizione, se la posizione in cui mi trovo adesso è ancora minore alla lunghezza della lista corta, quindi devo continuare ad aggiungere elementi delle due liste. se altrimenti io lo so che ho già finito, diciamo che ho già aggiunto tutti gli elementi della lista corta e mi resta soltanto aggiungere gli elementi della lista lunga. È per questo che è importante all'inizio capire qual è la lista corta e qual è la lista lunga di quelle due che ci arrivano come parametro. Quindi niente, andiamo a vedere un attimo il codice e vediamo come funziona. quindi noi abbiamo la nostra funzione main e abbiamo le due liste quelle che il testo dà come esempio e il nostro risultato a sua volta sarà sempre una lista e è la lista che viene restituita da questo da questa funzione merge e poi andiamo a stampare il risultato per controllare che sia giusto quello che abbiamo fatto. e cosa dobbiamo fare in questa funzione per prima? La prima cosa sarà quella di inizializzare quello che poi andremo a restituire giusto? Poi lo sappiamo che è la fine di questa funzione verrà restituita questa funzione e allora quello che vi dicevo prima a noi ci interessa capire qual è la lista più più corta e qual è la lista più lunga allora se la lunghezza di A supera la lunghezza di B allora cosa posso dire in quel caso? Che la lista corta sarà B è quello che io potrei fare prima guardate e quindi io potrei fare così io potrei inizializzare questa lista corta dire che la lista corta per default per sì per default sarebbe A e dire che per default la lista lunga sarebbe B e poi controllo se è giusto così e quindi chiedo o controllo se non è giusto così se in realtà è la lista A quella che è più lunga della lista B se capitasse così tipo che si capitasse così che la lista A fosse più lunga della lista B allora faccio lo scambio e niente in questo caso la lista corta sarà la lista B e la lista lunga sarà la lista A bene quindi questo primo pezzo questo primo pezzo qua questo questo primo pezzo qua di identificare qual è la lista più corta e qual è la lista più lunga è già fatto e poi andiamo a fare andiamo a fare il ciclo che più o meno sappiamo già come si fa e quindi la lunghezza allora noi andiamo a fare questo tante volte come elementi ci siano nella lista più lunga e facciamo la domanda se l'elemento in cui ci troviamo adesso è inferiore alla lunghezza della lista corta vuol dire che dobbiamo ancora continuare ad aggiungere elementi della lista corta giusto? e quindi alla nostra lista risultato andiamo ad aggiungere l'elemento in cui ci troviamo adesso nella lista l'elemento della lista corta in cui ci troviamo adesso sarà la lista corta nella posizione i e basta e guardate che al di là del fatto che ci siano ancora elementi della lista più corta da aggiungere io lo so che gli elementi della lista più lunga devo aggiungerli sempre guardate che io non mi fermo mai ad aggiungere elementi della lista più lunga forse mi posso fermare ad aggiungere elementi della lista più corta ma gli elementi della lista più lunga devono essere aggiunti tutti quindi in questo caso io non faccio nessuna diciamo non faccio nessun if ma semplicemente dico risultato una posizione quindi gli elementi della lista lunga vengono aggiunti sempre mentre gli elementi della lista corta vengono aggiunti fin quando si possa e questo è quello che fa quest'algoritmo qui e poi poi basta vediamo se funziona ovviamente mi manca qua mettere main per invocare la funzione main e quindi guardate che questo è il risultato che penso sia quello giusto 1 9 4 7 9 4 16 9 11 niente quindi abbiamo fatto tutto giusto giusta la soluzione diciamo questo era un esercizio abbastanza semplice un po' bisognava tenere conto di quello che vi dicevo prima di questo fatto che diciamo distinguere fin quando posso aggiungere gli elementi della lista più corta e fin quando posso aggiungere gli elementi della lista più lunga che sarà facciamo sempre sempre aggiungo elementi della lista più lunga ma se riuscivamo a fare bene questo passo di identificare la più corta e la più lunga poi non c'era nessun problema e basta vi ripeto questa cosa perché alcuni di voi continuate a farmi domande su come funziona questo tipo di for allora in questo for i ci rappresenta la posizione in cui ci troviamo in quel momento guardate che in questo esercizio a noi ci interessava conoscere questa posizione perché era a partire da questa posizione noi potevamo fare questa domanda potevamo determinare se eravamo già arrivati all'ultima posizione se se ci restavano ancora elementi della lista da percorrere o se avevamo già percorso tutti gli elementi quindi in questo caso ci serve questo for perché la posizione era importante per noi se a noi non ci interessasse questa posizione questo sarebbe stato fatto con for i in lista lunga per dire ma diciamo non è il caso di questo esercizio ma questo ve lo dico perché per ripetervi che dovete fare attenzione quando usate un tipo di for o quando usate l'altro tipo cosa state prendendo o cosa state facendo quando fate questo for e cosa state facendo quando usate quell'altro tipo di for ok questo giusto per dire per fare quel chiarimento basta quindi questo era il primo esercizio il secondo esercizio era quello che vi chiedeva di scrivere la funzione neighbor average che si prendeva tre parametri values che alla fine values sarebbe la tabella si prendeva una riga una colonna e in una tabella allora era questa funzione che si prendeva questi parametri e in una tabella calcolava il valore medio dei vicini di un elemento nelle otto direzioni come si fa vedere qui quindi ad esempio ci arriva come parametro come come riga i e come colonna j e poi il nostro algoritmo viene calcola la media tra tutti questi elementi tra questi otto elementi che sono i vicini se però l'elemento si trova su un bordo della tabella la media va calcolata considerando soltanto i vicini che appartengono effettivamente alla tabella ad esempio se se la riga e la colonna valgono entrambe zero ci sono soltanto tre vicini quindi ad esempio se l'elemento che a noi arriva come parametro si trova per dire nella posizione più alta della tabella come in questo caso facciamo finta che queste celle che sono in giallo sono quelle che effettivamente si trovano nella tabella diciamo che la tabella arriva fin qua quindi guardate che nel nostro caso la i è uguale a zero e per questo motivo noi non possiamo andare a fare la media considerando queste tre posizioni queste tre celle perché queste tre celle non appartengono alla tabella in cui non appartengono alla tabella sono oltre la tabella non esistono queste tre posizioni un po' la stessa cosa se la riga e la colonna che ci arrivano come parametro si trovasse in un angolo della tabella per essere più chiaro facciamo finta che la nostra tabella arriva fino a questo punto qua diciamo che qua ci possono essere altre cose sia da questa parte che da questa qua ci possono essere altre celle ma se l'elemento per cui ci hanno chiesto o l'elemento che ci arriva per parametro sul quale ci chiedono di calcolare la media dei suoi vicini si trova nell'angolo della nostra tabella questa che è delimitata con questa in rosso e quindi non avrebbe senso andare a prendere questi elementi perché questi elementi non esistono nella tabella io sono nell'angolo quindi non posso andare a prendere l'elemento che c'è più a destra di questa posizione e non posso andare a prendere nessun elemento che ci sia sotto questa posizione capito e allora in questo in questo algoritmo la cosa interessante o la cosa difficile complessa da fare è capire quali elementi posso considerare per andare a calcolare la media tra i vicini è la stessa cosa qui quindi fate conto che la nostra tabella arriva fin qua questo può essere altre celle e a noi ci chiedono di calcolare l'elemento diciamo attraverso questi parametri l'elemento sul quale andremo a calcolare la media sarà questo qua questo in blu quindi per calcolare la media di quell'elemento che si trova qua non posso prendere diciamo questi elementi non esistono non posso non devo andare a prendere a considerare questi elementi che sono qui allora come si può risolvere questo problema come posso fare a distinguere quali elementi devo considerare e quali elementi non devo considerare proviamo a farlo qui cancelliamo tutto questo e questa funzione non si chiama più match ma si chiama mail e ci sono tre parametri bueno values row column e ok e poi andiamo a creare qua table sarà una cosa come e facciamo una tabella qui velocemente una così cambiamo questo a due ok e quindi questa sarà la nostra tabella per andare a risolvere questo esercizio e cosa facciamo per questo neighbor average allora come parametro viene messa la tabella che abbiamo appena creato viene messa una una fila caso e una colonna caso quindi proviamo a farlo prima con la posizione 0 0 che questa posizione 0 0 sarà come se noi avessimo se l'elemento che a noi ci interessa o l'elemento sul quale ci interessa calcolare la media dei vicini fosse questo qui quello che si trova come se i e j fossero 0 0 quindi sarà quello che si trova nell'angolo sopra a sinistra bene giusto per fare un esempio e basta quindi a me cosa serve bene quindi ci siamo prima di tutto a me cosa serve per andare a calcolare la media diciamo per qualunque media che mi interessi che io voglia calcolare a me serve avere la somma degli elementi su cui voglio calcolare la media quindi per forza devo creare questa variabile somma e poi mi interessa il numero di elementi perché il numero di elementi perché la media si calcola come la somma divisa tra il numero di elementi e quindi viene la somma e viene count diciamo e all'inizio entrambe vengono messe come 0 e allora guardate come andrò a fare questo codice e poi vi spiego perché potrebbe avere senso farlo così andrò a fare Grazie. Io faccio così i miei cicli. Io sto dicendo che l'indice andrà dalla posizione riga meno 1 fino alla posizione riga più 2 e che quell'indice che mi rappresenta le righe che andrò a prendere, mentre quell'indice che mi rappresenta le colonne che potenzialmente posso andare a prendere vanno dalla posizione colonna meno 1 fino a colonna più 2. Cosa sto facendo con questo? Sto dicendo che potenzialmente, allora guardate che in questo caso io non sono ancora andato a prendere nessun elemento dalla tabella. Sto dicendo che potenzialmente io potrei, diciamo, il mio campo di ricerca sarebbe questo che si trova tra la riga meno 1 e la riga più 2 e la colonna meno 1 e la colonna più 2. Come se io dicesse che il mio campo, facciamolo con un altro colore. Io in questo caso sto dicendo che potenzialmente io potrei andare a prendere gli elementi che si trovano in questo range. Bene? Che questo range sarà quello di i meno 1, i più 1, j meno 1 e j più 1. Capito? E quindi io sto dicendo che potenzialmente, guardate, non è che sto dicendo che andrò a prendere ancora questi elementi, non ho ancora presso niente. Questi elementi in quel for che ho appena fatto non sono ancora stati pressi. Io sto dicendo che potenzialmente il mio ciclo dovrebbe considerare gli elementi che sono da questa posizione fino a questa e da questa riga, diciamo da questa colonna fino a questa colonna e da questa riga fino a questa riga qui. potenzialmente, ripeto. E poi cosa faccio? Qua, prima di andare a effettivamente prendere questi elementi, faccio la domanda, no? Allora, C, I... 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 Con i due cicli ho detto che io andrei a percorrere tutte le celle vicine o andrei a percorrere tutte le celle che infatti sono accanto a quella posizione che a me è arrivata come parametro. Ma cosa faccio con questo if? Io dico allora andrò a prendere quello che si trova, allora andrò a prendere quella posizione se so che quella posizione è una posizione licita per dirlo così. Cosa sarebbe una posizione licita? Sarebbe una posizione dove l'indice delle righe sia maggiore o uguale a zero e minore della lunghezza dei valori. Quindi, ad esempio, nel mio, in quello che stiamo risolvendo, questa non sarebbe una posizione licita, non sarebbe una posizione da considerare perché guardate che se a me è arrivata qui come parametro riga con il valore zero, quindi i meno uno sarà meno uno e quindi quella condizione qui che sia maggiore o uguale a zero non si compie, non c'è. E poi è un po' la stessa cosa con questa qui, no? Tipo che i sia minore alla lunghezza dei valori, alla lunghezza del numero di righe. E quindi se fosse, ad esempio, questo è il caso, quindi questa posizione qui io non la considero perché i più uno supera la lunghezza del numero di righe di questa tabella che entra come parametro. E quindi io per andare a modificare la somma e per andare a modificare il count controllo queste quattro condizioni E queste quattro condizioni, quello che mi determinano, quello che mi fanno verificare è che sia l'indice delle righe che l'indice delle colonne si trovano in una posizione Che l'elemento che io vado a prendere con questo indice i e con questo indice j sia un elemento licito, sia un elemento che si trova all'interno della tabella che ci arriva come, che ci entra come parametro. Capito? E quindi, niente, quindi è quella la strategia che ho usato per risolvere questo. Guardate che in questo esercizio io faccio, vado a percorrere sia le righe che le colonne, tutte. Ma poi per andare a incrementare la somma e andare a incrementare il count, io prendo solo gli elementi che sono liciti, solo gli elementi che sono all'interno di quella tabella. E basta, oltre questo, poi andiamo a dire dopo il for che la nostra funzione dovrebbe ritornare somma diviso tra count. Andiamo qui, print. Non so se funziona così. Sì, e forse... Eh sì, quindi è giusto questo qua, da 1,5. Sì, perché fa 1 più 2 più 2, 2, 4, 5. Buono, ma insomma da 1,5, quindi dovrebbe essere giusto questo quando andiamo a prendere l'elemento che si trova nella posizione 0, 0. Ok, quindi niente, è questa una strategia per risolvere questo. E ripeto, la cosa importante in questo è che noi andiamo a fare comunque, diciamo, quello che ho messo in blu, noi andremo a prendere, andremo a fare il percorso, andremo a fare il ciclo su tutti gli elementi che sono vicini a questo elemento che ci è arrivato come parametro, ma non andremo a considerare tutti questi elementi quando, per calcolare la media, andremo solo a prendere quelli che esistono, quelli che veramente sono all'interno della tabella. E come facciamo a sapere che sono all'interno della tabella? Sono quelli in cui sia l'indice I che l'indice J si trovano nei limiti, che sarebbe superiore a 0 e inferiore alla lunghezza, in entrambi i casi. E basta, quindi questo sarebbe l'esercizio 2, e questo è il codice. Io comunque vi pubblico le soluzioni, quindi vi condivido il codice più ampio. Un attimo. Ok, poi c'era il terzo esercizio, quello dei quadrati magici. In questo ci parlavano di una matrice con lo stesso numero di righe e colonne, che aveva i numeri interi. Ci dicono che si considera questo un quadrato magico se la somma dei suoi elementi in ciascuna riga e in ciascuna colonna e anche nelle due diagonali ha lo stesso valore. E poi, quindi se la somma delle righe, di tutte le righe, tutte le colonne e anche le due diagonali, questa e questa, degli elementi che si trovano in questa diagonale, in questa diagonale, quindi di tutte le colonne, tutte le righe, ha lo stesso valore. E anche devono esserci presenti tutti i numeri. In questo caso, ad esempio, questo è un quadrato magico da 16 elementi, quindi devono essere presenti tutti i numeri da 1 a 16 e non si può ripetere nessun numero. Scrivete un programma e questo è un quadrato magico. E poi, quello che ci chiedono a noi in questo esercizio è quello di scrivere un programma che acquisisca in ingresso 16 valori e verifichi se, dopo di averli disposti in una matrice di 4x4, ordinatamente per righe da sinistra a destra e dall'alto al basso, formano un quadrato magico in cui dobbiamo verificare quelle due proprietà. Che nei dati siano presenti tutti i numeri dall'1 al 16, questo vuol dire che non ci possono essere numeri ripetuti. E niente, quello che dicevo prima, che la somma delle righe, delle colonne e delle diagonali abbiano lo stesso valore. In questo, diciamo che noi lo sappiamo che in una matrice o in una tabella andare a fare la somma delle righe è abbastanza semplice perché lo possiamo fare così, tipo la somma della prima riga della tabella, della matrice, e poi per andare a fare la somma degli elementi che si trovano, degli elementi della colonna, si fa in questo modo, no? Tipo prendi l'elemento che si trova nella prima riga, che sarà questa, nella riga 0, poi nella riga 1, nella riga 2, nella riga 3, e tutti nello stesso indice, che in questo caso sarà l'indice 0. Quindi viene e prende tutti gli elementi che sono qui. E poi la diagonale, noi sappiamo che c'è una diagonale perché in questa prima diagonale saranno gli elementi che hanno lo stesso indice, gli elementi in cui i suoi due indici sono gli stessi, hanno lo stesso valore. Basta, quindi andiamo a vedere come si può programmare questo esercizio. Quindi direi che la prima cosa è quella di andare a costruire la matrice, la tabella, il quadrato, e guardate che chi deve costruire questo o chi inserisce questi valori sarà l'utente. Quindi noi dobbiamo fare un ciclo in cui l'utente venga chiesto di inserire 16 volte, perché 16 volte? Perché 4x4 dà 16, quindi ci saranno 16 elementi, e l'utente dovrà andare a inserire 16 volte, dovrà inserire 16 valori. Quindi, niente, noi iniziamo dalla riga 0 e all'inizio la nostra tabella, la nostra matrice sarà vuota, come vedete qui, e andremo a fare questo 16 volte. A cosa ci serve questo if? In questo if io sto dicendo se la posizione in cui mi trovo adesso, questa posizione che va da 0 a 16, se io la divido tra 4 e il modulo non c'è nessun residuo, se la divisione tra 4 non dà nessun residuo, che è così come funziona l'operatore modulo, allora io lo so che devo incrementare una riga, che devo saltare una riga, perché sono arrivato. Facciamo finta. Facciamo l'esempio. Quindi i all'inizio vale 0, 1, 2, 3. E guardate che lì ho messo già 4 elementi, giusto? Quando i vale 0, 1, 2, 3. Quando i vale 4, io questo elemento non lo aggiungo sulla stessa riga, ma devo aggiungerlo come il primo elemento della riga successiva, di quella che c'è dopo. E quindi a quel punto io sono costretto a creare un'altra riga. Come faccio a sapere quando devo fare quello? Perché guardate che quando io arrivo all'elemento 4 e io faccio questa operazione 4, modulo 4 uguale a 0, questo mi dà true per la prima volta. Perché? Perché 4, 4, sì, perché se io divido 4 tra 4, quello non mi dà nessun persiduo, sono multipli. Quindi niente, questo crea una riga e come si fa a creare una nuova riga? Si fa così, no? Tipo alla tabella aggiungi un'altra lista. E quindi la prima lista in questa tabella erano gli elementi, i quattro primi elementi, i quattro elementi che c'erano nella prima riga, quindi questi quattro elementi qua. Poi ci crea un'altra riga e inizia ad aggiungere questi elementi che ci sono qua. Quando si arriva alla posizione 8, cosa succederà? Che è 8, modulo 4 uguale a 0, da true e quindi crea un'altra riga e aggiunge un'altra riga alla nostra tabella e gli elementi vengono aggiunti in quella riga, in quella nuova riga lì. E guardate che poi questo pezzettino qui, questo si fa dentro il for, perché questo si fa... questo si fa dentro da... Quindi 16 volte noi andiamo in questo ciclo e cerchiamo prima, anzitutto, di creare la tabella con i 16 elementi. Questi 16 elementi sono quelli che inserisce l'utente. Quindi qua chiediamo l'utente di inserire i valori e ogni nuovo valore viene aggiunto nella posizione in cui ci troviamo in quel momento. Ah, e guardate che vengono aggiunti all'ultima riga. A noi ci interessate nelle tracce di in quale riga ci troviamo perché l'elemento viene aggiunto alla lista che si trova in questa riga qua. Quindi la prima volta questa riga sarà la riga 0. Dopo di aver aggiunto quattro elementi, quindi questo row diventerà 1. Dopo di aver aggiunto i secondi quattro elementi, questo row diventerà 2 e poi diventerà 3. Capito? Quindi noi andiamo ad aggiungere gli elementi alla lista in cui ci troviamo in quel momento lì. e vediamo cosa non c'è e perché e vediamo cosa non c'è Boh, e quindi niente, andiamo avanti così. Bene, quindi il nostro programma in teoria... Aspettate un attimo. Allora, guardate che qua bisogna far partire row, far partire le righe come meno uno, perché in questo if, se io faccio 0 modulo 4 uguale uguale a 0, quindi 0 modulo 4 è uguale a 0, quindi qua entra la prima volta quando noi siamo nella posizione 0, capito? Quindi bisogna far partire questo in meno uno, perché poi se no, diciamo nella prima interazione, questo si compie, e row alla fine arriva non a 3, ma arriva fino a 4, e quindi 4 è fuori i limiti della nostra matrice, quindi bisogna far partire row in meno uno, in modo che quando i sia uguale uguale a 0, incrementi row e row diventi 0, che è quello che cerchiamo nella prima riga. Ok, c'è questa cosa, in teoria funziona, e adesso, non so se ve lo faccio vedere tutto, ma guardate che... Il nostro programma ci chiede 16 valori e poi non fa niente altro. Poi cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a disegnare o andare a stampare quello che abbiamo appena fatto. Quindi, facciamo così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E mettiamo questo... Voi sapete già come funziona questo. Quindi, adesso, guardate che qui noi andiamo a percorrere prima tutte le righe, noi sappiamo che questo dobbiamo farlo, mentre lo possiamo fare con questo indice, che noi possiamo chiamare row in range, che va da 0 a la lunghezza della nostra tabella, e noi sappiamo che la lunghezza della nostra tabella corrisponde al numero di righe, al numero di liste che ci sono all'interno della tabella. Quindi, noi sappiamo quante righe sono attraverso quel length di board, e poi, per andare a percorrere le colonne, lo facciamo in questo modo, che vuol dire che il numero di colonne che ci sono in questa riga, guardate che noi lo facciamo su il numero... noi facciamo la lunghezza della riga in cui ci troviamo in quel momento, che sarebbe la lunghezza della lista in questa posizione qui, nella posizione board e nella posizione row. e andiamo a percorrere ogni elemento che si trova in quella lista, bene? Quindi, come facciamo a prendere ogni elemento? Questo, ormai lo sapete già, ma ve lo ripeto, quindi, in questo caso, andiamo a stampare nella nostra tabella, nella nostra matrice, l'elemento che si trova nella posizione, in questa riga, in questa colonna, e poi aggiungiamo questo per dare qualche formato. E vediamo se funziona... Eccola qua, quindi ci stampa un quadrato magico. Poi, qual è la cosa più importante che ci interessa a noi calcolare? O noi come sappiamo che questa cosa sia un quadrato magico? Perché quello che possiamo fare sarà e sommare questa prima riga, e noi lo sappiamo che tutte le righe e tutte le colonne, la somma di ogni riga e di ogni colonna di questo quadrato, dovrà avere lo stesso valore che è la somma di questa riga qua. E quindi noi possiamo dire che abbiamo, come dire, come una somma, sì, come una somma obiettivo, che sarà questo target e che corrisponde alla somma della prima riga, per dire qualsiasi cosa. Capito? Ma questa potrebbe essere la prima, la seconda, la terza, questa potrebbe essere qualunque riga, perché proprio una delle condizioni per capire o per sapere se questa cosa è un quadrato magico è quella che tutte le righe e tutte le colonne abbiano lo stesso valore. Quindi alla fine questa qua potrebbe essere qualunque riga di quel quadrato magico. Quindi questo ci serve a poi andare a fare le verifiche e andare a comprovare se in realtà è un quadrato magico. E in teoria... E noi possiamo fare così, tipo, all'inizio io posso dire... Io posso partire da dire che sì, che è un quadrato magico, dall'inizio posso assumere che questo è un quadrato magico e poi andrò a controllare se infatti tutte le condizioni che ci servono per determinare se è un quadrato magico o meno si compiono o no. E se non si compiono, allora cambio questo true a false e poi alla fine ritorno questa variabile che c'è qui. Allora, la prima cosa che possiamo andare a controllare è che tutti i numeri dall'1 al 16 ci siano in questo quadrato magico. Come faccio quello? Eccoci. Io andrò a prendere tutti i numeri che ci sono tra 0 e... tra 1 e 16 e andrò a fare la domanda. a fare la domanda. Grazie a tutti. Quindi cosa sto facendo qua? Sto andando a prendere ogni numero tra 1 e 16 e io per ogni numero faccio la mano, no, meglio. Dico se questo numero non si trova né nella prima riga né nella seconda riga né nella terza né nella quarta, allora questo non è un quadrato magico perché una delle condizioni è che ci siano tutti numeri da 1 a 16. E a questo punto, guardate che questa booleana che avevo creato prima la metto come false, la modifico come false e ho scoperto che questo qua non è un quadrato magico. Quindi is magic square, a questo punto è false. Poi l'altra, quindi questa era una prima conferma, un primo passo che io dovevo fare per capire se questo era o meno un quadrato magico. Poi qual è la seconda condizione? Io devo andare a controllare che la somma di tutte le righe sia uguale a questo target che avevo messo qui prima. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Allora, se la somma della riga in cui mi trovo adesso è diversa di quel target, di quella somma obiettivo che io avevo calcolato prima, allora lo so che questo non è un quadrato magico. E poi andiamo a fare quella delle colonne. E quindi ricordate che qui, diciamo, prendere le righe era più semplice, nel senso che... e si faceva così, quello che abbiamo appena fatto in quel foro. Le colonne sono un po' più difficili, nel senso che bisogna andare a prendere... che si devono prendere elementi che ci sono su diverse righe. e quindi in questo caso, visto che questa è una tabella piccola che ha soltanto quattro elementi, noi possiamo farlo in questo modo. guardate, for e in range. che in realtà è questo, possiamo lasciarlo così. allora, il... allora, il... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.